I lavoratori del GSI Piemonte, 1200 persone, oggi sono davanti alla giunta regionale perché abbiamo ricevuto la comunicazione da parte dell'azienda che 200 nostri colleghi verranno messi in cassa integrazione a zero ore a partire da gennaio. Questo significa per la pubblica amministrazione privarsi di uno strumento per gestire tutto il sistema informativo, un momento molto difficile per la pubblica amministrazione piemontese. Intendiamo manifestare per avere il piano industriale che ci dica qual è il nostro futuro.